benvenute benvenuti a questa meditazione sul respiro e sulla consapevolezza del corpo allora prima di iniziare a meditare scegliamo in che posizione metterci è una posizione che dovremmo mantenere per una ventina di minuti quindi prendiamo una posizione che possa essere comoda se non abbiamo mai fatto meditazione prima o se abbiamo dei dolori magari la parte bassa della schiena è consigliato sedersi su una sedia oppure anche sul divano senza appoggiare la schiena alla schienale se invece vogliamo sederci a terra è consigliato mettere un cuscino o se abbiamo un cuscino che è molto sottile possiamo anche mettere un libro abbastanza grosso e appoggiare il cuscino sopra quando abbiamo deciso la posizione prima di sederci e di sistemarci se avete qualcosa che può essere un simbolo per la vostra meditazione magari una candela o magari una coperta che vi piace un maglione preferito è anche bello portarlo con sé durante la meditazione così fosse un piccolo rituale quindi quando avete tutto quello che volete che vi occorre possiamo sistemarci nella posizione che abbiamo scelto mantenendo la schiena dritta quindi immaginate che dal coccige la spina dorsale diventa più lunga e più forte c'è più e più spazio tra le vertebre il collo segue la lunghezza della schiena e il mento è un pochino verso il petto iniziamo semplicemente ad espirare profondamente qui lasciando cadere le spalle lontane dalle orecchie inspiriamo profondamente dalle narici e apriamo la bocca per respirare lasciare andare tutta l'aria fuori in qualsiasi momento della meditazione se sentiamo che la posizione c'è scomoda o non siamo più contenti o contenti con la nostra posizione possiamo magari sgranchire un po le gambe oppure cambiare la gamba che è davanti o dietro se siete le gambe incrociate primi respiri sono quelli forse un po più impegnativi quando abbiamo la mente ancora piena di input di pensieri con i semplicemente respirando molto molto lentamente molto profondamente iniziamo a rallentare i pensieri li trattiamo un po come dei visitatori che entrano ed escono quando inspiriamo li vediamo quando e espiriamo lasciamo andare manteniamo un po di respiri qui espirando sempre dalla bocca lasciando uscire tutta l'aria se mi serve se mi fa sentire bene posso espirare usando la voce lasciando uscire l'aria accompagnandola con la voce e osservando come le spalle rilasciano sempre di più giù 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 verso il pavimento calmo il respiro calmo la mente però vanno a saccare le mani dal corpo e le porto su piano 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 in posizione di preghiera al petto quindi alle mani che si toccano che combaciano e ho i pollici che sono in contatto col centro del petto però sentire il mio respiro attraverso il contatto delle mani con il petto forse sento anche il battito del cuore prendo questo momento per mettere un'intenzione alla mia pratica può essere un'intenzione bella per noi stesse noi stessi può essere anche dedicata a qualcun altro per mando il mento verso il petto quasi ad inchinarmi questa intenzione bella promesso ricentro la testa e se gli occhi chiusi piano piano li apro lo sguardo è appoggiato a terra semplicemente lascio entrare la luce riconosco la stanza senza creare alcuna narrativa piano 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 inizio a sfregare le mani tra di loro creando calore creando energia poi le posiziono sugli occhi quindi appoggio i palmi delle mani sugli occhi e sento che le punte delle dita sono l'attaccatura della testa forse dei capelli continuo ad espirare profondamente mandando fuori tutta l'aria sentendo il calore delle mani forse la differenza di temperatura tra la faccia e le mani sentendo la pressione che le mani esercitano sulla faccia piano piano con la punta delle dita inizio a massaggiare la testa provo a coprire tutta la superficie della testa prendo il mio tempo faccio dei piccoli cerchi con la punta delle dita scendo giù fino alle orecchie inizio a tirare le orecchie tutti i lati scendo giù faccio dei cerchi ai lati del collo poi arrivo dietro il collo sento le vertebre sento l'attaccatura della testa mando la mano destra la spalla sinistra inizio a massaggiare la spalla sentendo la consistenza del braccio della spalla la carne i muscoli le ossa lascio che la la mano destra pongo una leggera pressione sulla spalla in modo che la spalla possa rilasciare verso il basso continuo a toccare il mio braccio scendendo giù arrivando al gomito sono gli occhi chiusi come se avessi l'esperienza per la prima volta di sentire il mio braccio mi approccio questo tocco con la mente curiosa sento la consistenza la temperatura caratteristiche del mio braccio scendo giù arrivo al polso alla mano massaggio bene bene il palmo della mano e poi passo per tutte le dita mano sinistra la spalla destra ancora una volta sento questa pressione gentile della della mano che manda giù la spalla giù 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 quasi che la spalla potesse rilassarsi lasciare a terra ogni tensione inizio a toccare la spalla spremo per bene sento la consistenza del braccio i muscoli la carne e ossa scendo giù arrivo al gomito continuo a toccare il mio braccio ancora una volta come se lo stessi scoprendo per la prima volta scendo giù al polso palmo della mano massaggio per bene spingendo bene il palmo della mano e poi passo per tutte le dita rimetto le mani in posizione di preghiera quindi si appoggiano ancora una volta combaciano una verso l'altra ancora una volta strofino creo ancora calore creo nuova energia poi posiziono le mani nella parte bassa della schiena faccio i pugni con le mani e inizio a toccare la schiena su e giù riattivando la parte media e bassa della schiena posiziono le mani sulle cosce se sono seduta o seduto su una sedia inizio a strofinare bene le cosce dall'alto verso il basso quasi a voler rilasciare andare giù ogni tensione se invece sono seduta o seduto a terra posso aprire le gambe magari piegare un po' le ginocchia in modo da non creare tensione e massaggiare dal basso verso l'alto nell'interno e all'esterno dall'alto verso il basso quindi vado dai piedi su 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 e poi scendo all'esterno verso il basso quindi anche qua riattivo le gambe e poi piano 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 ritorno in posizione seduta gambe incrociate se sono sulla sedia porto l'attenzione alla pianta dei piedi che tocca il pavimento se sono seduto o seduto a terra sul cuscino pongo l'attenzione sulle parti del corpo che sono a contatto con il pavimento e con la terra lascio scendere ancora una volta le spalle lontane lontane dalle orecchie quando espiro semplicemente osservo le sensazioni che hanno il corpo in questo momento dopo questo massaggio piano 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 senza staccare le mani dal corpo le porto in posizione di triangolo sulla parte bassa della pancia lascio che la pancia si rilassi completamente inizio a sentire che la pancia si espande quando inspiro e che l'ombilico va piano piano verso la spina dorsale quando espiro ora il mio respiro sia nell'ispirazione che nell'espirazione avviene attraverso le narici rimane un respiro lungo e profondo spendiamo i prossimi 10 minuti con le mani alla pancia sentendo semplicemente il respiro e le conseguenze del respiro sul corpo pancia che si espande quando inspiro ombilico che va verso la spina dorsale quando espiro passiamo da le spalle giù, 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 giù osservo piano il corpo e se sento che c'è qualche tensione o qualche peso immaginario che sto supportando con l'ispirazione lascio andare tutto a terra e ritorno all'attenzione al respiro nella pancia che si espande quando inspiro che si rilassa quando espiro è un'altra parte la parte è un'altra parte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Riporto l'attenzione al movimento del respiro nella pancia. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.